Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Francesco e ben ritrovati su questo nuovo episodio su The Legendreft. In questo caso, se non c'è tanto questo randro qua, ora riuscimmo anche a randrare già il randro successivo al Warp F. Grazie appena i blocchi di diamanti che ho da parte, sono riuscito anche a randrare questi blocchi di diamanti, sono riuscito grazie anche a Sespire World Party, che ho non c'erassato, che mi avevano riusciti un po' e di conseguenza erano venduti tutti all'astro in modo tale da riuscire anche per randrare un po'. Sto utilizzando un po' il kit base, non perchè non voglio utilizzare il kit fugitivo, ma al momento siccome si stava così per spaccare il piccone, ho preferito anche evitare che un po' di andare ad usarlo tutto, tanto perchè prima di prendere il kit fugitivo dovrei aspettare anche un altro po' di ore, per 3-8 ore circa, c'è anche un po' di più per poterlo anche riprendere, siccome non è più come prima riguarda il kit, tempo perché è un po' differente rispetto a 4.000, la prima del reset. Per il resto riguarda un po' la Warp, se c'è un troppo, ci ho avuto un po' anche per 3-8 ore circa, non parecchio, ci richiedeva, però siamo comunque riusciti anche ad entrare molto bene, e anche in questo caso anche ci è voluto un bel po'. Dietro c'è qui i ragazzi, sono riuscito sia dalla strada e grazie anche quando avevo fatto 3-8 ore circa, siccome c'è stato il Warp Party, mi hanno dato un bel po' di blocchi di diamanti, mi hanno dato un prezzo anche abbastanza alto, ci sono riuscito a mettere veramente un bel po' da parte, in questo caso anche a sufficienza per poter lancare, anche se ci vorrà anche un po' di più per arrivare qualche altro ramp, in questo caso siamo riusciti semplicemente ad arrivare al ramp G, sono solo questo ramp up, anche che appena erano oltre 10 milioni, e di conseguenza che è sempre un ruoio, io adesso penso che esserò per un attimo citato in chat, però la sto vedendo, sinceramente se riuscendo a prendere molte exp, di conseguenza ne avremo un bel po' anche da parte, e poi nel caso dovrei dire anche come si rutilizza l'amp, che è che ormai è un po' diverso rispetto a prima, quindi di conseguenza vedrò anche cosa si potrà fare, cosa no. Nel frattempo riusciremo anche a prendere un bel po' di blocchi, vedremo anche più o meno da quanto riuscire a fare io, come posso vedere il kit, mentre il fuggitivo, quanto riuscire a fare, sperando anche di riuscire ad lancare veramente tanto, riuscire a fare altri 20 milioni, come non sono riuscire a fare ora, anche arrivare a 50, anche 60 m, anche in pochi attimi, proprio per evitare qualsiasi tipo di guaio, e nello stesso tempo riuscire anche ad lancare senza troppi problemi, sperando anche che vada tutta anche molto molto bene, bene, rispetto all'altro, come prima, di sicuro, piano piano, la situazione andrà sempre meglio, l'unica cosa che vedrò, vediamo insieme, speriamo che ci sia, non penso, non penso, mi pare, mi sa proprio che non l'avranno messo nel villo, ok, i miei c'erano, ci saranno, spingio, ci sono, e ne entro in fuggito, conseguenza, poi vedrò di usare il pitrone del kit base, senza evitare di farmare talmente tanti token, che riuscirò anche a mettere un mondo e trento il pitrone, per riuscire a farmarne sempre di più, nel frattempo per i monza e lull, più o meno 400 trappa, quasi 500, traprontano altri molti per 1.1, andrà sempre bene. A presto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.